Zuccheriscato, il vegeto mio è troppo buono, o tu hai saputo che hai nascito, perché mi è subito che te l'hai già fatto e non hai voluto fare, perché non sappi manca tu quello che ti ha ricevuto vicino a me, ma ti posso, voglio dire, ma hai capito che fata, 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 tu sei come fata, sei la fata a winza, ma stai buono, voglio dire, tu li giudichi a me, a Voi vedi a me indire n'arte e n'épanne. E' un po' di scuola, non c'è un po' di parole, che si accattano da madale, che poteva essere assi e poteva essere l'unice a mezz'assi. Ma stai buon, eh già, fate fare mezz'ora scuola, frate, ma tu mi li sbattisci a me e facci i loro tic-toc, uaiù, ma originale facci i loro tic-toc. Ma in gibozza, ma tappos, vedi a me indire n'arte e n'épanne, vedi a me e te mangiare i cittadinati nel dobbino. E' vero che mi possa permetter, ma nel dobbino ti hai chiappato pure a te, però non ti scorda, ti hai messo qua a prendere la mascherina. Poi, se vuoi trovare il video, mi faccio mannette e pubblico tutta la sociale, non ti preoccupare. E' un po' di scuola, e' un po' di scuola, ragazzi, sei vicino a me, ti hai gestito le turchi, a me mi ha gestito le turchi, perché ho pieno principale, già ne hai mangiato, tu hai fischi a me, puoi intasciarmi e sceca, o le calèche, e che siamo a parlare le calèche, stiamoci zitti, che sei quanto è l'oro, facci ma sciacare, asintomati, e non mi ha nascosto, che mia moglie è la rete, e mi ha morto, piccio, si nasi indomati, si ho bruttato per l'asintomati, che formaggio, carciofi, si è tricot, si sembra coca con la spiata dell'MD, prima e par le G-Sol, studi di buono programma, e pom attacco, e ciao!